salve a tutti e benvenuti sul mio canale youtube facciamo questo video per informarmi che nella settimana prossima tutto ritornerà alla normalità abbiamo ripreso a lavorare quindi non possiamo più portare un video al giorno o un paio di video a settimana come abbiamo fatto in questi giorni di quarantena e quindi facciamo abbiamo fatto questo video per annunciarvi che tutto ritornerà alla normalità facciamo come il nostro solito un video a settimana e il nostro appuntamento è sempre quello dell'oredì e ora vi faremo vedere come abbiamo trascorso questa prima settimana di lavoro ciao 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 ben e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.